Pessimi segnali dal centrodestra, Berlusconi, Meloni e Salvini non riescono neppure a fissare un pranzo di lavoro, divisi come sono su tutto, scrive sul tempo Luigi Bisignani, secondo cui milioni di potenziali elettori fanno fatica a sentirsi rappresentati dai tre leader nazionali. Quest'ultimi, giocano da soli e non per la squadra, e come galletti nel pollaio, si beccano a distanza, tra videomessaggi e post. La proposta di Bisignani è la seguente, visto che i tre non riescono ad accordarsi su niente, perché non si pensa a cambiare almeno la regola che serve solo a bloccare lo schema, quella secondo la quale il partito che raccoglie più voti indica il presidente del Consiglio? Secondo l'ex faccendiere a nessuno dei tre leader del centrodestra sarà permesso di salire a Palazzo Chigi, lo sanno benissimo a causa di un carosello di veti incrociati tra gnomi della finanza e burocrati europei. E perché non si comincia quindi a ragionare su un premier e su ministri riconoscibili, e soprattutto competenti? Questa prosegue Bisignani potrebbe essere la dimostrazione concreta che c'è davvero visione comune che l'Unione è vera e non creata solo per convenienza elettorale. I nomi ci sono, da Tremonti a Casini, dalla Belloni allo stesso Crosetto, da Massolo alla Moratti. Se il centrodestra si mette il vestito dell'alternativa sarà inutile piangersi addosso quando si voterà. Grazie a tutti.